eccomi a voi nell'insolito ma piacevole compito di presentarvi i 45 giri di maggiore rilievo che la rca italiana ha pubblicato in questo periodo in fatto di attualità viene spontaneo parlare dell'estate e il disco primo genito di questa estate è senza dubbio quando calienta che abbiamo lanciato nella versione originale degli hermanos rigual realizzata dalla nostra consociata messicana è un disco che non ha bisogno di alcuna presentazione perché tutti lo conoscete perfettamente purtroppo anche attraverso le molte imitazioni che ne sono state fatte è tu palpita, tu ricordo, mi locura, mi delirio me estremisco quando calienta il sole quando calienta il sole qui in la playa sempre in tema di dischi per l'estate il secondo pezzo che sta ottenendo un vero grande successo in città, al mare, ovunque è Pinne, Fucile ed Occhiali di Edoardo Vianello che dopo il capello si afferma definitivamente come uno dei migliori artisti italiani ne fucile ed occhiali quando il mare è una tavola blu sotto un cielo di mille colori ci, ci tuffiamo con la testa all'ingiù mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sol ci scambiamo nell'acqua salata dolcissimo bacio d'amor dolcissimo bacio d'amor sul retro di questo disco prettamente estivo ma che sicuramente riascolteremo con piacere anche al ritorno dalle vacanze vi è un twist fresco ed orecchiato sempre di Edoardo Vianello guarda come dondolo guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist fra i dischi per l'estate vi è inoltre Sole Magico di Luglio di Meccia e Umigliano che ascolteremo nei titoli di testa delle otto trasmissioni della nuova rubrica televisiva giornale delle vacanze in programma ogni lunedì sera alle ore 21 sul primo canale sole magico di Luglio ride l'onda con lo scoglio quante vele colorate si rincorrono nel vento mentre tu corri con me si sono sciolti i tuoi capelli nelle braccia del vento sempre di Gianni Meccia abbiamo un altro interessantissimo disco che ce lo presenta nella sua vena migliore quella dell'ultima lettera tanto per intenderci titolo di questa nuova canzone Domenica ti porterò a ballare Domenica ti porterò a ballare con me se vuoi finalmente amore avremo un giorno tutto per noi sarai la più bella che balla che balla sempre ti prego metti ancora quel vestito che piace a me metti in testa il nastro di velluto che piace a te sarai la più bella che balla che balla sempre se vieni con me si vieni con me non dirvi no senza perché si vieni e vedrai è tanto facile ti piacerà a proposito di Gianni Meccia ricordate il ciascià dell'impiccato realizzato con Jimmy Fontana ora che anche Jimmy è con la RCA il duo prosegue nei suoi misfatti con un pezzo indescrivibile che presto ascolterete dal titolo Bugiarda ma mentre si lanciano le canzoni per l'estate abbiamo già pronta la canzone per quando finisce l'estate la voce è di una nuova e interessantissima e graziosa interprete che si chiama semplicemente Rosi quando finirà quest'estate io e il nostro amore non finirà questi nostri giorni felici noi non potremo dimenticare sento che dovremo vederci seguitare ad amarci ogni giorno così quando quando finirà quest'estate il nostro amore non finirà sento che dovremo vederci seguitare a proposito di voci nuove interessanti proprio in questi giorni come voi sapete è terminato il primo Cantagiro d'Italia un enorme successo di folle di stampa ma soprattutto il Cantagiro ha consacrato una voce nuova anzi come ha detto Enrico Maria Salerno nel presentare la trasmissione televisiva di chiusura di questa interessante manifestazione una voce che non solo è la rivelazione di questo Cantagiro ma una rivelazione della musica leggera italiana stiamo parlando della nostra simpatica Donatella Moretti che con questa canzone di Prieto l'abbraccio ha ottenuto un enorme successo di pubblico e di critica Orrò tanta paura di quest'ultimo abbraccio parto verso una notte senza luce lo so tanto grande il dolore ma non devi saperlo non mi devi vedere quando poi piangerò cosa ci resta da dire niente più niente manca solo l'abbraccio e finire così e come i buoni maestri che seguono da vicino le proprie allievi il talent scout Teddy Reno colui che ha scoperto Donatella Moretti l'ha seguita da vicino anche nella classifica finale del Cantagiro e Teddy da buon talent scout di se stesso si è scelto una ottima canzone con la quale ha riconfermato le sue sicure qualità di interno ecco a voi una fra mille chissà se qualcuna mamerà chissà chi fra mille mi dirà sei tu solo tu la mia gioia infinita sei tu il mio amor sei tu la mia vita e nessuno mai potrà altra brillantissima partecipante al Cantagiro è stata Miranda Martini che nella sua canzone Mene in fischio ha dato una nuova dimostrazione della sua indiscutibile classe e bravura la 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 mene in fischio non sei qui con me la 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 mai lasciata e senza un perché la 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 se tu credi che io corra da te e per pregarti d'amarmi ti sbagli perché la 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 ad un altro i miei baci darò la 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 e con un altro ti rimpiazzerò ma si è finita un bel gioco per te su riprova di nuovo ma non più con me la 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 sono libera e grido così me ne in fischio di te me ne in fischio di te ma si la 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 splende il sole per me la mia vita vivrò anche senza di te la 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 non ti rimpiangerò dal mio cuore ogni lacrima cancellerò la 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 ad un altro i miei baci darò la 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 con un altro ti rimpiazzerò non vedi è finita la mia schiavitù le tue arie spavalte non servono più la 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 e sono libera e grido così me ne in fischio di te me ne in fischio di te ma si la 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 a proposito di Miranda Martino nei giorni scorsi Miranda ha concluso una interessante esperienza quella cioè di presentatrice dello special televisivo incontro con Perez Prado in questo spettacolo Miranda ha presentato nuovamente al pubblico il suo ultimo grande successo Gaston altro presentatore improvvisato di questa interessante trasmissione televisiva è stato Sergio Endrigo che voi già conoscete per i suoi due dischi precedenti Aria di neve e basta così invitato a cantare nello spettacolo di Perez Prado Endrigo ha voluto far conoscere al pubblico la canzone che tutti noi pensiamo sia la sua canzone cioè dove meglio risaltano le sue grandi doti di autore e di cantante ecco a voi io che amo solo te c'è gente che ha avuto mille cose tutto il bene tutto il male del mondo io ho avuto solo te e non ti perderò non ti lascerò per cercare nuove avventure c'è gente che ama più le cose e si perde per le strade del mondo io che amo solo te io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù cantante e ospite di questo special televisivo la nostra piccola mascotte dalla grande voce Anna Maria ha 17 anni e il suo disco di maggior successo è finora Il Segreto autore quel prieto di cui ricorderete La Novia ecco appunto Il Segreto che ascolterete anche nel corso della trasmissione televisiva incontro con Perez Prato vuoi tu sapere cos'è l'amor dai senza chiedere mai se tu darai ancora di più conoscerai l'amore ed io ti voglio svelar un antico segreto un antico segreto che sa dar la felicità vuoi tu sapere cos'è l'amor ma veniamo al personaggio principale di questa trasmissione televisiva il famoso Perez Prato per la prima volta in Tania questo erompente e validissimo musicista in pochi giorni ha scritto tre nuove canzoni ispirate a Roma ha diretto l'orchestra per lo spettacolo ha sbalordito tutti con la sua vivacità e capacità musicale la RCA Italiana gli ha consegnato festeggiandolo una medaglia d'oro a ricordo del continuo successo che dall'inizio delle nostre attività in Italia Perez Prado ha riscosso presso tutto il pubblico state ascoltando in questo momento Patricia Twist seguirà Rica Ciunga entrambe le riascolterete con altre sue famose esecuzioni nel corso della trasmissione televisiva che sarà programmata fra breve Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sta per chiudersi il primo tempo di questa nostra parata di stelle e alla ribalta si avvicina al cantante che uno strepitoso successo ha posto in testa le classifiche di vendita di tutti i tempi Nico Fidenco con l'emissione sul mercato di Lasciami il tuo sorriso abbiamo superato lo stampaggio di 2 milioni di suoi dischi di cose di fare usci